Spettacolo in quel di Loiano Il centro di trail, una mappa, i vari gruppetti che girano Qui c'è l'entrata del nuovo trail che dovrebbe aprire il 2 Deve essere una roba pazzesca Pazzesca, veramente bello Adesso sto aspettando i compagni di avventura che stanno arrivando Qui dove si arriva praticamente Chi è dove Dopo aver parcheggiato, aver fatto la salita oppure no Si arriva in questo spiazzo qua dove iniziano tutti i trail La parte è la freeride, qui partirà con la nuova Di qua parte diciamo tutte le varie DH, Darkside, Vertical, la Six Line Ok, che adesso piano piano le stanno aprendo tutte E qua è la pinettina praticamente Veramente veramente bello Si può arrivare da lì con la bici o con la macchina Si può arrivare da qua solo in bici Perchè con la macchina non si può perchè c'è una sbarra E questi sono tutti trail Veramente veramente bello Mi raccomando eh raga Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Un po' di supporto non guasta mai Ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti